bella a tutti ragazzi ben ritrovati in questo nuovissimo video sono tony rosa nero e sono qui di nuovo su clash of clans ragazzi oggi partiremo con una nuova truppa che ho fatto come vedete ho fatto 100 barbari e 100 alceri mamma mia un attacco al di poco epico se riesco a fare più risorse che trofei prima vi faccio vedere un attacco che mi ha detto un amico mio di registrarlo e metterlo nel canale eccolo qua 49 per cento più 10 trofei ovviamente e ora vediamo il suo attacco vediamo un poco cosa è riuscito a fare mamma mia che attacco epico guardate quanti nemici mamma mia tipico di uno di livello superiore perché ovviamente deve fare questo è veramente una schiappa il punto è di dire barbaro guardate quanti nemici mamma mia quello che conta di uno dei nemici aia gli è partito una furia a burzo C'è fatto L'ho andato ragazzi Beccato Vediamo quant'altro Ah mamma mia Quanto è difficile Bellissimo Ottimo Questo è il fin nero Mi piacerebbe averlo Ragazzi Il lantaggio veramente Epico Bellissimo Ovviamente E vabbè 49% Una stella Mamma mia Però si è portato via Un bottino da Mamma mia Che bottino Ovviamente noi Vediamo cosa hanno scritto Ah c'è questo che vuole entrare Però Ah è stato rifiutato Prendiamo Come si chiama Ragazzi il mio obiettivo è fare Il re barbaro A livello 5 Come vedete l'ho portato al quarto Facci sentire la furia Sentito Sentito Mamma mia E andiamo a fare Un attacco Ragazzi Con 100 Balberi E 100 Alceri Direi che questo va più che bene Ragazzi Vediamo che cosa Riusciamo a fare Con questo Attacco Vediamo Partiamo Con il Barbaro E partiamo subito Partiamo 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 Dire che questo va più che bene ragazzi Vediamo cosa riusciamo a fare E' un po' buggato Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione